Eccoci, siamo con Mr. Raspard Legato, un pareggio che direi vi lascio soddisfatti perché affrontate i play-off da terzi. Sì, oggi è stato un ottimo risultato, abbiamo fatto anche un buon primo tempo, dovevamo, secondo me, chiuderla, abbiamo avuto le occasioni per portarci in vantaggio, però anche loro sono un'ottima squadra, l'avevo detto prima della partita, il Pro Ponte 10 fa un buon calcio, giocano proprio bene, ci hanno messo in difficoltà in diverse occasioni. Ora li aspettiamo a Torbella, i play-off, siamo arrivati terzi, questa era l'unica cosa che contava oggi, il risultato. Ci vedremo ai play-off per portarci a casa il risultato e provare a vincere, fornire in prima categoria. Il campionato volge al termine oggi, le chiedo un commento in generale sul campionato che ha vinto il Borgo Ratti, direi, perché c'è stata in X. Ma il Borgo Ratti progetto è stata, non so, niente della partita, però se mi diceva che ha vinto il Borgo Ratti, direi che se lo merita, perché... Ha vinto il campionato, credo. Complimenti a loro, perché è una squadra che è in testa da parecchio tempo, dispiace per il progetto, ma sarà ai play-off con noi e speriamo di incontrarci magari nella gara finale. Grazie, mister. Grazie a voi.